Questo è un caso un po' eccezionale perché stiamo vedendo comunque un'opera work in progress, non capita molto spesso. Abbiamo analizzato gli aspetti tecnici con le varie difficoltà che possono esserci o comunque le necessità richieste. Abbiamo messo in produzione la cassa. La struttura della cassa viene eseguita dando prima a prendere le misure dell'opera, sviluppare la cassa in modo da trasportare un marmo, che a differenza di un quadro è una specializzazione di cassa diversa. Vengono calcolati i pesi. Una volta finita la cassa vengono fatte le dime interne in modo da fare un bloccaggio idoneo al marmo dove non ha nessuna sollecitazione al trasporto. La cassa è pronta, poi avremo occasione di vederlo in fase del trasporto. Sarà sicuramente bello da vedere, sarà una bella cornice all'opera.